amici di unibet ben ritrovati dalla redazione di napoli magazine ultimo turno di campionato la nostra speedy bet c'è napoli crotone allora subito il primo consiglio napoli crotone 1x2 dico 1 che è dato nelle quote unibet a 1 e 65 ma non fermiamoci e andiamo avanti proseguiamo per la nostra strada tantissime le quote interessanti proposte da unibet la seconda che vi voglio proporre riguarda l'over 3 e mezzo data a 2 e 10 questa è un'altra quota che vi suggerisco e poi l'ultima molto molto simpatica gol segnato in entrambi i tempi dico sì è una quota data a 1 e 38 è normale stare sempre con noi perché la scelta è ampissima come sempre su unibet puoi scommetterci